benvenuti amici ma soprattutto amiche di SAP2000 l'idea è mostrare come si fa a ottenere la lista degli elementi selezionati all'interno di SAP e ottenerla come array di numeri vediamo mettiamoci una vista 2D ipotizziamo che questo sia un solaio modellato come tanti travetti ciascuno con la sua area di competenza a questo punto bisogna far sì che Pajarma innanzitutto sia collegato con questo modello di SAP per farlo bisogna dargli le istruzioni corrette che io ovviamente mi sono salvato e in particolare si inizia dicendo a Pajarma che deve creare una variabile chiamata MySapObject che prende i comtypes che sono i tipi comuni che ci sono nel sistema operativo del client ok quindi sì il sistema operativo e prende di tutti gli active objects prende l'oggetto di SAP2000 insomma questa è una referenza verso l'oggetto aperto da SAP2000 quindi apre l'istanza prende l'istanza SAP2000 e si salva in memoria l'oggetto aperto andiamo invio e ovviamente da errore che meraviglia ah sì sì scusate ho sbagliato bisognava importare prima di tutto i comtypes voilà quindi a questo punto in memoria lui ha i tipi comuni che stanno qui si vede che c'è comtypes e ci sono tutti i tipi tra questi c'è anche l'istanza di SAP2000 se uno spulcia qui in mezzo la trova nei client se uno va dentro client e poi qui dentro ci dovrebbe essere da qualche parte l'oggetto SAP ma adesso proviamo su questi dettagli invece andiamo ad aprire questo oggetto allora dunque adesso in memoria c'è finito scusate ho usato questo questo e questo in memoria adesso non c'è più soltanto special variables ma c'è anche il SAP object bene allora impostiamo il modello SAP come sbloccato ora il modello qui è sbloccato il modello SAP però nel caso uno aprisse qualcosa di bloccato lo deve sbloccare prima ovviamente quindi se io qui in questa istruzione SAP model, set model is locked metto true il modello si blocca boh ok SAP model is locked ah si che stupido scusate bisogna di fare questa cosa no mi scordo sempre i comandi ehm bisogna definire un'altra una variabile un oggetto meglio dire un oggetto modello che chiamiamo come il modello tal quale che è quello su cui poi si opera effettivamente premiamo invio et voilà eccolo qui qui c'è il modello su cui stiamo puntando a questo punto facciamo quello che abbiamo detto prima cioè blocchiamo il modello per poi sbloccarlo di nuovo paf et voilà il modello si è bloccato eh il comando si vede anche che è andato a buon fine perché ci ha restituito un tipo intero ehm un tipo intero in particolare ci ha restituito 0 quando eh le istruzioni delle app di SAP restituiscono 0 vuol dire che il comando è andato a buon fine mettiamo false e magicamente il lucchetto appena premiamo invio si aprirà e infatti si apre ora ehm siccome eh quindi ehm il modello è già stato creato e noi stiamo interagendo con questo modello già creato ehm possiamo sorvolare su tutte le questioni di settare l'unità di misura eccetera eccetera ma ehm con l'intenzione di procedere all'assegnazione dei carichi il primo passo è ottenere una lista di oggetti a cui assegnare i carichi ora si potrebbe eh selezionarli eh gli oggetti eh creare ehm definire dei gruppi qui cosa che io ho anche fatto ma in questo esempio non uso i gruppi e e poi dire a ehm python ok adesso prendimi tutto quello che c'è in questo gruppo e assegnagli un load pattern che è quello che ti do però ehm proviamo invece a fare oggetto per oggetto quindi diciamo ehm questo esempio vuole mostrare come riesco a fare un'interazione mh mista no? in parte automatizzata in parte manuale dunque tra questi travetti questi travetti hanno ciascuno ehm cioè tra un travetto e l'altro c'è un'area eh disegnata che è questa qui sono queste aree a cui poi si potrà applicare un carico eh distribuito su area quindi eh chilo newton su metro quadro o qualche eh insomma un carico su area per esempio il G1 o ehm il G2 o i carichi accidentali vari bene allora per mh assegnare questa istruzione bisogna andare nella guida di ehm io uso la guida di etabs di etabs ma tanto poi eh va bene anche per SAP con qualche piccola modifica e ehm se andiamo a cercare nei metodi di selezione c'è questo get selected ora siccome la guida di SAP come potete vedere fa schifo minchia ehm perché è mal documentata abbiamo come unica informazione questa e cioè che eh è un metodo che ci restituirà un tipo intero che si chiama get selected che prende eh il riferimento di tre variabili dummy variables cioè noi dobbiamo creare innanzitutto tre variabili eh vuote che lasciamo vuote eh che poi SAP riempirà con i valori che ci darà in che ci restituirà questo get selected qui cominciamo a eh tanto per cominciare a dare a python il nostro script facciamo totale no facciamo sì totale eh zero in questo modo ho assegnato un tipo eh che è un tipo intero perché lui vuole un intero io gli do un tipo intero non sarebbe necessario ma glielo diamo già direttamente come tipo intero poi vuole un object type dove object type ci restituirà eh un array quindi questi parenti quadri per dire che è un array eh in cui ci saranno questi numeri qua qua allora se ho selezionato punti ci restituirà uno se ho selezionato eh elementi traver ci restituisce due cavi ci restituisce tre eccetera eccetera io che ho selezionato solo elementi area ci restituirà un array fatto di cinque solo di cinque questo è quello che ci aspettiamo quindi andiamo qua e pastiamo quindi past apri chiudi quadra invio eh forse mi è stata una grande idea eh chiamarlo object type comunque object name e il nome dell'elemento che è quello che poi ci interessa veramente perché con gli object name poi riusciamo a fare un eventuale ciclo for eh sugli elementi di questo array e premiamo invio allora si nota che qui nella eh siccome sto usando python con eh la console a script a script diretto e posso vedere tutte le variabili che ho in memoria dalla python console e si vede che appunto c'è l'object type che è quello che eh abbiamo scritto qui questa variabile che in questo momento è vuoto no? la lunghezza è nulla no? non ci sono elementi e il numbers items eh totale è un intero un tipo intero e non c'è niente l'object name list è una lista vuota in questo momento eh di oggetti questi sono le tre variabili che abbiamo creato allora a questo punto non c'era molta non c'era molta eh molte informazioni eh eh sulla guida né sulla guida di sap eccola qua dove non ci dice praticamente nulla perchè ci da un set selected e un get selected che sta a frame beh non 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 abbiamo molte informazioni da qui solo qualche eh giusto qualche informazione proprio bah che però si rivelerà non essere esatta perchè allora sulla guida di edubs non ci sono proprio neppure esempi mentre su quella di sap c'è questo esempio in visual basic normalmente si verifica il contrario cioè che in questa guida esempi non ce ne sono mentre ci sono su quella di edubs poiché non ero convinto eh e soprattutto non mi torna eh questo get selected che da tre parametri con quest'altro che di parametri si eh val name as a string eh però il noi noi invece non avevamo qui abbiamo come prima prima variabile un intero non una string quindi val name che sarebbe il nostro object name poi by reference as boolean eh ma noi booleani non ne abbiamo noi non stiamo chiedendo se un determinato elemento è vero che è selezionato o meno non me ne faccio un un piffero di questa perchè lui è questo quello che fa cioè chiede per esempio qui se l'elemento 8 è selezionato o meno quindi a questo punto se l'elemento è selezionato gli viene fuori un true altrimenti gli viene fuori un false chi se ne frega cioè è importante questa cosa? no non è importante e quindi ero alla ricerca di quello che era eh il comando questo comando assegnato correttamente la risposta mi è venuta cercando dopo tanti errori eh degli script ed eccolo qua ecco qui la sintassi corretta dove sap cioè model e il nostro eh my sap object che sarebbe questo sap model ok noi abbiamo sap model quindi facciamo sap model punto a questo punto ci viene fuori eh select object e get selected quindi andiamo se io faccio cancello il punto lo riscrivo scrollando si trova il eh comando la funzione il metodo select object dove sei select tutto ho detto male era select object no? sì quindi eccolo qua select object punto e a questo punto questo eh metodo qua questa in realtà questa è una classe non eh non dà alcun riferimento a questo select object che infatti non è referenziato in nessun modo brutto stronzo l'unico modo quindi è che qualcuno si è messo e l'ha provato allora noi adesso questo è uno script in C sharp e quindi si mette un tipo riferimento eh all'interno perché C sharp è un linguaggio eh fortemente tipizzato e quindi bisogna in ogni virgola andare a definire di cosa stiamo parlando di che tipo eccetera nel caso di python le cose sono eh semplificate ovviamente ci sono dei prezzi da pagare per questo ma in questo caso non ci interessa e quindi andiamo a eh chiamare le tre variabili di risposta come indicate dentro eh la guida eh alle api di itabs ok a questo punto se io premo invio io otterrò io otterrò la selezione di eh cioè quello che è selezionato su sapto e cioè questi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici elementi dovrebbero essere tutti eh eh quindi otterrò una lista di cinque quindi dovrei ottenere number of items totali tredici object type una lista di cinque e negli object name list dovrei ottenere la lista eh dipende quali quali sono gli oggetti selezionati proviamo a vedere no e voilà ebbene sì ehm ebbene sì a questo punto eh si può vedere anche qui che non mi fa vedere oh beh ti se ne frega ehm che quindi questo è eh se io chiedo per esempio adesso di printare print eh questo object name list lui mi darà eh 6 7 8 9 10 11 18 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 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 solo così se faccio così non 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 forse è questo che abbiamo sbagliato ret cioè l'oggetto di ritorno ret uguale hop 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 allora dobbiamo andare a prendere questo e assegniamo a questo punto esatto a questo punto ho un oggetto ret ret ha contiene perché sennò non me le assegno ok ret è un contenitore una lista che contiene tutto tra cui anche questa tupla esatto che parte da 0 e finisce a 12 di lunghezza 13 perfetto si ok e quindi se io adesso faccio print apri ops apri e scrivo ret 3 lui mi dovrebbe dare perché ret 2 perché perché 3 è questo cioè 3 è il tipo di ritorno di questo comando quando è stato eseguito ci ha dato un tipo di ritorno infatti ret è una variabile di lunghezza 4 invece noi vogliamo il 2 di ret l'elemento secondo che è una lista quindi abbiamo così la lista dei nomi degli elementi selezionati ci e nella ci è che il